Allora ragazzi, oggi stamattina andiamo ad aprire i pacchi che ci siamo guadagnati durante la settimana scorsa. Durante la settimana scorsa io non ho potuto fare tutta la Weekend League e tutta questa settimana hanno potuto fare le Division Rivals. Perché non ho avuto molto tempo. Insomma 10 e 32 e tutto va bene. Non ho avuto molto tempo. E quindi ci dobbiamo accontentare di questi pacchi. Andiamo subito ad aprire. Partiamo subito dal pacchetto Mega. Vediamo cosa ci riserva. Cosa ci riserva un pacchetto Champions League Mega. Ah, tu non ho già avuto il viola. Ah. Dopo che vede il viola vede un Joe Mario 81 e va bene. E va bene, dice va bene, ma magari dopo ci sta qualcosa di interessante. Sicuramente. Sicuramente, sicuramente. Va bene. Ah. Ah, Alex Techseria, questi qua ce li vendiamo tutti Dopo andremo a vedere pure cosa abbiamo combinato con la compra vendita Perché questa settimana abbiamo fatto un mucchio di soldi E stiamo a più 250.000 di compra vendita in due settimane Ora andiamo ad aprire un pacchetto oro rari Vediamo chi cazzo esce da questo pacchetto di oro rari Ah, Icona? No, nemmeno Spagna, CDC, Barcellona, Iaramendi Iaramendi, eccolo con 83 che all'inizio era 85, poi se n'è sceso, si è perso per la strada Potevamo trovarlo due anni fa questo Iaramendi Vabbè, invece l'abbiamo trovato adesso Quanto sta sul mercato questo Iaramendi? 2008, 2008, va benissimo Questo McLean lo possiamo pure vendere Perché non ci serve a un cazzo Questo Nakaba Nakamba? Nakamba è pure l'altra Questa ha una gamba ragazzi, non è a due Ha una gamba Non l'ho messa in vendita perché? Il mercato entra nel vivo Il range del tuo prezzo è appena stato migliore Se mi dice quanto è il range del mio prezzo Io te lo dico subito Ci sta nel range Quindi che cazzo Bah Non ho capito che cazzo funziona Che cazzo non funziona Ma perché? Che significa? Il range del tuo prezzo è stato modificato Grazie per aver il follow a Neve612 Game Magazine Benvenuto in live Benvenuto in live No, non abbiamo capito perché ci dice questa cosa Non l'ho capito sinceramente Vabbè, quindi me li devo conservare tutti per forza Perfetto Andiamo a vedere Per ultimo ci lasciamo il mega Ora andiamo a vedere l'oro premium Andiamo a vedere l'olo 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 premium Vediamo che cazzo ci esce Benissimo Nemmeno un workout Ruben Neves 82 Benissimo Benissimo questo pacco Mamma mia Come emozionante Mai prendere i pacchi Ragazzi Zecca Vaffanculo Zecca Ok Però bella quella maglia Cazzo No Scherzavo Scherzavo Aggiorno oggetti L'ultimo Possiamo sculare Possiamo sculare ragazzi Possiamo Per favore Un altro pacco Champions League Possiamo sculare Esce verde Uno si crede Ghisaki Invece Brasile Icon No Cdc Real Madrid Casemiro Casemiro 87 però Workout Attenzione ragazzi Workout Casemiro Non ci possiamo lamentare Non ci possiamo lamentare Pure uno Chaka Che Questo è un giovane inesploso Perché a me piace un sacco Però vabbè Quanto sta sul mercato Casemiro Sta 13.000 20.000 Sta 15.000 E alla fine Secondo me Più o meno Ci siamo andati a Recuperare i prezzi Che Dovevamo prendere I soldi Ci siamo andati a recuperare i soldi Invece abbiamo preso i pacchetti Più o meno Era equilibrato Bella raga Questi sono stati i premi Della Weekend Link Della Division Arrival Alla prossima That's all